E voi che mi chiedete, è vero? Forse qualcosa è vero. Però può fare le domande e le risposte da solo. Certo, potete fare le domande. Mi ha dato da Marzullo, devo andare. Tu, con il tuo direttore, ce l'ho morto. Mi ha dato sei anni di fuggio, sei, sei. Però gli ha dato 20 kg di sei. Ma come ne hai perso? Con una dieta, con una dieta, ho fatto apposta, ho fatto la città rivenca, ho seguito Gianluca, ho fatto un supporto straordinario e poi gli altri otto grazie a Bambino Todaro. 20 giorni. E lui mi continuava a dire, ma sei comagrido? E io dice, prego, no, perché a Milano, a Roma c'è la bilancia rotta. Quando ce l'ho fatta a Milano, c'è il gioco impossibile, perché si vede. Mi ha telefonato per andare a Milano. Comunque sappiate che Maier mi ha dato otto anni in più di un giornale. Non erano sei? Erano sei? Sei. Va bene, allora, quale è? Ma non si chiede? Ma non si chiede?